Voglio essere anche più chiaro nei confronti del signor Dell'Ai, terra piattista, come si autorefinisce, che parla di decenza civile. Ebbene, voglio parlargli di autonomia. Ebbene, io non discuterò e sosterrò fino in fondo le norme relative al coronavirus della Germania e dell'Austria. Credo che sia giusto che nella sua autonomia il Trentino Alto Adige, invece di seguire l'Italia, segua le norme indicate da Austria e Germania. È chiaro? Non voglio dire niente di più. Autonomia? Sul Tirolo? Lingua tedesca? Allora anche Stato e capacità di difesa dei tedeschi e degli austriaci. Ecco, le misure di precauzione contro il virus voglio che siano per il Trentino e Alto Adige le stesse della Germania e dell'Austria. Niente di più. Arrivederci, signor Dell'Ai.